ragazzi non è possibile pensavo di averci l'ha fatto arrivare in tempo con questo momento guarda per sicurezza di notte questo praticamente si accende di notte si vede un movimento lo metti lì lo piazzi io ho trovato le camera perché ha detto ci metto questo magari che non ci sia un caso delle camera e invece no sono venuti e manoporta via tutto ci metterò questo però da metterlo dove prende sole altrimenti non è inutile e forse qua lo metto fa lume e l'animale fa lume e l'animale scappa ecco perché qua hanno devastato tutto qualche patate rimasta è sotto quale ho visto praticamente sono maniato le piante e forse le patate sotto poi le ritrovo è ritrovata di sotto perché non è che insomma alcune patate e poi piante no questo è più buono questo vuol dire che è successo diverso tempo fa io ricopro e nulla le coglierò con sale momento mai aspetto maturino quelle poche rimasti praticamente anche quest'anno anche questa anche in questo ultimo campo di patate che avevo come speranza si sono magnati tutto guardate ma è incredibile tutto tutto non c'è più nulla tutto lasciato pianto ma io non ho parole va bene metto il faretto a tempo scaduto fosse arrivato quei due o tre giorni prima ce l'avrei fatto purtroppo sono stati dei ritardi una consegna e così mi hanno fregato piazzato poveri ferro a buio dopo un po di giorni si è caricata la batteria ovviamente che non può scarica se funziona ed ho provato prima al buio mettendo la mano si accende faccio vedere se se funziona ancora guardate scarico va bene proverò un'altra volta comunque praticamente e coprivento coprendo quando anche ovviamente funziona solo di notte è un bel led comunque io ringrazio che mi ha consigliato però purtroppo è arrivato tardi il pacco e almeno qua la difesa è inespugnata vedete tutto regolare tutto a posto se più o meno e ora ci metto anche la luce però prima devo fare una cosa più importante guardate guardate cosa mi è stato dato gli spissimi pesci rossi ora non sono esattamente rossi comunque fate conto sono pesci rossi anche sempre carassio e li liberiamo nel laghetto passano da una vita in cattività alla vita in un luogo selvaggio e vedremo se riusciranno a cavarsela oppure no ci ho beccato ci ho beccato il padrone di casa ci ho beccato il padrone di casa nel laghetto e mamma mia avete così paura di me sono scappati terrorizzati non capisco perché nel saldino raghetto che è un po motoso perché c'erano ci sono questi signorini a fare il bagno ma sono loro il padrone di casa ve l'ho detto ora mi spiace per i pesci li butto nell'acqua motosa erano un gruppo di singhialini ovviamente bene l'acqua è diventata un po motosa lo dico io mica se li mangeranno perché l'obiettivo cioè se qualcuno doveva mangiare qualcosa in questo caso erano i pesci rossi doveva mangiare larve di zanzara tigre che sono milioni qui ovviamente questo laghetto che viene da una sorgente perenne capite vive in eterno però i cinghialetti stavano quasi agli arsi ora io li libero subito dandogli tempo per ambientarsi a temperatura più fresca dell'acqua ovviamente di libero e poi vediamo e non l'hanno inturbata neanche tanto hanno bevuto loro vengono qui a bere capite stupite questo è normalissimo una parte insomma di questa zona questa è una zona di cinghiali ci sono migliaia ecco vivono qua e qua è dove loro si abbeverano quindi ed è tutto normale ora io vado a inserire i pesci però con la delicatezza necessaria certo così li vediamo fuoco inturbato e vengono anche di giorno figuriamoci di notte ora io lascio i pesci uscire quando capiranno è momento di uscire lo faranno da soli al momento opportuno ci passano ovviamente sono piccolini liberati da un acquario mi hanno mi hanno regalato diciamo regalazzo io li ho liberati da un acquario mi hanno donati per fare questa esperienza ora se voi pensate di poter essere in grado di vivere in natura secondo me qua non ci vedete una notte cioè qua se vi dico state qua una notte qua nel laghetto dei cinghiali poi entro una notte fuggite scappate non resistete guardate chi è che mi diceva del canneto no appunto la precedente chi è che mi rompe il canneto io ho bisogno di bambù che sono vedete già secchi quindi è un vantaggio vediamo se vanno vediamo se hanno la forza di uscire da una spinta dolce la spinta gentile non vogliono proprio uscire non so se questo è uno scuro presagio io credo loro ce la fanno rispetto alle alborelle che non erano adatte eccolo uno ed ecco l'altro ecco in coppia si difenderanno fra loro verano in questa natura selvaggia ostile però anche viva un luogo che loro non hanno mai potuto immaginare perché sono sempre vissuti in cattività pesci rossi comprati sa dove da chi levati e questo invece è un luogo estremamente libero selvaggio sentendo passare degli animali altri cinghiali ma è normale non vi preoccupate vengono anche lupi a bevarsi insomma c'è un po di tutto movimenti e delle zanzare si immaginano sono passati nei nuovi cinghiali sono infastiti al fatto che gli ho interrotto la bevuta diciamo quindi io me ne vado e con la domanda ma voi se la fareste a vivere in natura perché secondo me ormai non siamo più abituati ma nemmeno forse io e questo è un problema se un giorno dovremo poi ritrovarci a vivere in natura ovviamente non ce la facciamo non ci riusciamo insomma i peci sono andati spero di trovarli con l'acqua chiara li rivedrò e anche la borelle io non ho detto che sono state mangiate non mi ha detto non le ho più viste ma guarda guarda bellino via buona fortuna stavolta ti andrà bene non ti mangeranno i cinghiali ma chi vuoi ti mangi le volpi cinghiali non lo so io non ho idea di chi li mangia però qualcuno se li ha mangiati i pesci alborelle oppure sono ancora qua ma io non li vedo più avanti allora l'ho messo così sperando in faccia lume abbastanza lume però è che devo angolare il pannello a sud quindi è un po complicato poi fa tornare la luce quindi la situazione in questa qua l'orto qua speriamo speriamo i comodori si riprendano perché non lo copro tutto non metto tutto perché devo fare la rotazione colture attenzione c'è devo ruotare le colture quindi dovrò mettere delle le gominose ora non sulla superficie ma su una parte che qua ma avanza ma che non c'è così tanta acqua che annaffiare poi l'inverno lo faccio tutto ok l'inverno lo faccio tutto con fave ok e pisellini prima fa verso pisellini per quanto riguarda qua faccio un po qua qua un po di questi che sono fagiolini scaduti tra l'altro fagioli scaduti e pisellini estivi i pisellini estivi i pisellini vengono anche d'estate se uno lo può fare fave assolutamente no pisellini sì quindi facciamo questo tentativo perché mi piace mangiare pisellini d'estate allora l'obiettivo è vedere qui l'ho già un po ricoperti vedere se riesco a far nascere questi semi di fagiolini gialli sono i miei preferiti che hanno quattro anni dopo la scadenza da quattro anni magari nascono può darsi troppo fitti l'ho messi sì cinque volte più fitti quello doveva essere fate guardate questo è quanto cinque volte più fitti c'è quindi cinque volte più fitti dovrebbe essere meno molto meno fitti però io calcolo che ne nascano uno su cinque perché è così insomma la canasta sempre meno che non nascano più se riesco a farci e meno i seme poi qualcosa mi mangio anche l'obiettivo è raggiunto guardate qualche bella terra che c'è un po piena di gramigna questa non è gramigna questa è gramigna che dove sia una di quelle sopravvissute alla precedente nell'attacco dell'istice quindi è giattato se sta qua come questo pomodoro vedete facciamo il trasporto temporale via sono saltato dopo la pioggia finalmente e guardate anche la differenza di maturazione delle susine guarda sì che sono buone però queste qua mi hanno visto proprio in rose 90 varietà vi faccio vedere quelle che sono in questo momento più saporite che sembra la stessa pianta insomma qui qualcosa si mangia finalmente si mangia qualcosa direte questo qua che ne ha fatte poche le fa buonissime sono spettacolari sono molto dolci e piccolissime però questo è un buono per fortuna i frutti selvatici reggono meglio i bachi non vengono bacati i frutti selvatici e alla fine sempre puntasse su questi questi frutti antichi selvatici quelli tanto belli grandi chiaramente sono meno in grado di difendersi da tutti questi predatori mangiatori uccellatori bachini larve e chi più che ne metta e per chi mi ha deriso ma giustamente per la rete devo dire che la tenuta è fuori discussione eh guardate che tenuta straordinaria ho fatto proprio una divisione netta fra questo campo diciamo dove c'ho il orto e tutto il resto usando tutto quello che poi devo avere come poveri arnesi appunto che non riesco a scavalcare io a questo è bello perché devo trovare modo di scavalcare meglio ho fatto una pedanina che ci ho pensato è una pedanina li aveva fatto una pedanina ho passato questa straordinaria linea di difesa fortissima invalicabile guardate indistruttibile che leggerà secoli e entro in questo luogo meraviglioso visto là c'è qualcosa che non c'era prima frutto caduto che può essere tanto guardiamo ai pomodori sembra tutti a posto questi erano rimasti pochi questo è una susina una susina da dove è arrivata la susina cioè la susina è arrivata da là dal susino quindi può essere stato a lanciarmi a susina qua un mangiatore di susine umano oppure un uccellino oppure qualcuno a mostrare che si è fatto la difesa ma noi possiamo entrare quando vogliamo vista la susina sembra vediamo se c'è un morso umano per vedere se c'era un morso umano poi da se è un umano che l'ha mangiato un morso e poi l'ha tirata via con grande mio disdegno devo dire perché se mi prendi la frutta te la devi mangiare tutta altrimenti io mi potrei offendere il susino sta maturando ma è ancora presto che si vanno a mangiare sono ancora pronte quando sono maturi e ve le mangiate non tutte e possibilmente e non sputate solo il seme non sputate l'intera susina è inaccettabile le piogge hanno fatto bene vedete poi però di andare a vedere pesci perché mi preoccupa un po la storia dei pesci mi sentirei molto il colpa se i pesci non fossero a posto odori patiti non è nato perché comunque hanno avuto acqua a volontà patiti molto patiti tranne questi qua che sono un po più vivi ma questo è bello aspetta a mettere gli sostegni pesca mananzia sbettiamo ancora un po le su che stanno partite via le su che sono partite su che partite bene melanzane e la vedo buon maluccio una due qui non ho pacciamato avete visto niente faccio matura tutto naturale faccio matura fa una cosa innaturale io sinceramente non so se voi la trovate così naturali o sì nulla questo modo mi sembra un po pochi io alla fine avrò i pomodori sapete dove nel terreno quell'altro che ho dove ho tolto la rete portata qua ora dobbiamo superare un'altra riga un'altra linea e questo è un modo che si spera che ne facciano qualcuno comunque non è che so poi è che sono un po patiti va andiamo avanti superiamo la nostra linea e andiamo oltre oltre l'orizzonte verso i pesci vedete c'è altro incredibile passaggio passaggio non passaggio preluso all'istrice che anche questo rimane a resistere come baluardo insormontabile ci sono ma onestamente non voglio guardare non me la sento mi sembra di immaginarmi quello potrebbe succedere è cosa vorrebbe succedere sono dove i pesci cosa potrebbe essere successo ai pesci sono vissuti qua ci sono cinghiale avevi visto prima ora siamo saltati temporalmente i pesci sono liberi qui e chi se ne è magnati oppure sono ancora vivi andiamo a vedere proviamoci lentamente per non disturbare i pesci per avere una visione più possibile equilibrata nel nostro naghetto non fate scherzi è difficile anche vederli è la verità un lago abbastanza grande alla fine che siano spariti tutti sia un luogo dove spariscono tutti i pesci sembra strano che c'è un buco nero di pesci che è proprio a buttare qualcosina per vedere se si muove qualcosa pezzettino qui ci sono un sacco di animaletti ma l'uomo ricchissimo di fauna selvaggio sì ma di pesci deve essere ingrato torbato che ci sono un citacqua di ogni tipo no ragazzi l'ho visti ma soprattutto sono riapparsi quelli vecchi la borelle sono riapparsi ragazzi questo è meraviglioso ho mosso questo legno ho mosso questo legno e sono partiti guarda eccolo lui è questo rosso e insieme alla borelle insieme alla borelle sono tutti vivi tutti vivi tutti vivi tutti vivi non si sono mangiati cinghiali erano solo nascosti perché sono pesci e non gli voglio certo nascondere loro nascondiglio perché altrimenti se gli nasconde nascondiglio e metto il legno dentro se gli nasconde nascondiglio questi poi se li magnano allora che metto il legno dentro in effetti ha perfettamente senso perché se stavano qua sotto io devo lasciarli in pace devono fare loro sanno loro come fare sanno loro in natura come difendersi dall'avversità perché sono pesci pesci vivi vivi e vegeti vivi e vegeti avete visto ora il problema che non ho fatto vedere quell'altro non ho visti quattro quindi per la legge la matematica meno si siano moltiplicati nel frattempo siccome erano buttati due dopo ho visto quello rosso di sicuro quello rossino e nero sono andati l'acqua vediamo se li riesco a quadrare ho trovato l'acqua comunque ci sono eh ci sono è che non si vedono ci sono e poi più che disturbarli benissimo benissimo ho vinto io ho vinto io ho vinto io ho vinto io sì anche loro hanno vinto in effetti iscriviti al canale youtube chiocciola leremita è gratis e attiva la campanellina per non perdere nessun video